Ieri il titolo del video era dedicato al petrolio, la domanda era se stesse iniziando la correzione, oggi è arrivata un'ulteriore conferma che aumenta le probabilità che in effetti la correzione potrebbe essere iniziata, siamo comunque ancora sui supporti importanti della volatilità stop line in area 70 e comunque siamo venuti giù di 6-7 punti e quindi non è indifferente quello che è accaduto negli ultimi due giorni. Stessa cosa per il gas naturale che oggi segna meno 2,25, gas naturale che aveva corso ancora di più, guardate quanto siamo ancora lontani dai primi supporti in area 3 e 4, continua il ribasso dei rendimenti americani, questo è il rendimento del decennale, oggi un altro meno 2,60%, stiamo andando verso il primo target in area 1,23 dove passa la media a 200 e questo come abbiamo detto diverse volte crea problemi al settore finanziario, un po' ovunque perché comunque abbiamo visto questo, l'avevo mostrato prima brevemente, questo è il Bund, il Bund tedesco che oggi segna più 0,26, vedete in trend ascendente, quindi questa tendenza del rialzo dei bond e quindi del calo dei rendimenti c'è anche in Europa e questo è il settore finanziario, l'indice DAX bancario meno 1,26 e siamo a target come avevamo detto qualche giorno fa in area 86, quindi vediamo se questi livelli reggeranno, l'influenza c'è stata nei giorni scorsi sugli indici europei, in particolare sul nostro, il Fuzzimib che vedete è lì inchiodato in area 25,3, oggi più 0,2, se non altro nel complesso la reazione a questo ribasso dei rendimenti è stata un po' più vivace rispetto a quella dei giorni scorsi, comunque stenta il Fuzzimib a superare 25,5, è tutto sommato stessa cosa per il DAX, che oggi segna un più 1,17 ma c'è un ma nel senso che comunque è una performance dovuta al buon andamento di un paio dei suoi titoli a maggiore capitalizzazione, fra cui SAP che ha un peso del 10% all'interno del distinio. Torniamo al grafico a due ore che avevamo fatto vedere nei giorni scorsi per mostrare l'imbuto, cioè l'area compresa tra la volatility stop line, la linea era tratteggiata, la media 200, avevo rimarcato chi segue sa diverse volte il fatto che ci sia ormai in atto un estenuante ping pong ormai dal 18 di giugno, quindi sono 20 giorni che facciamo test dei supporti, test dei supporti, test dei resistenze, test dei supporti, test delle resistenze, qui c'è stato il primo bull trap, dico il primo perché un altro potrebbe esserci domani forse, bull trap nel senso che è stato superato a 15,750 e poi rifiutato, e poi abbiamo continuato con questo ping pong, vedete, regolarissimo, cioè va a testare il supporto, poi la resistenza, poi il supporto, poi la resistenza, poi il supporto e oggi toccava alla resistenza e siamo finiti a 15,7, contate quante volte ha fatto questo giochetto e vi rendete conto come in questa fase un sistema breakout avrebbe dato un sacco di falsi segnali perché queste sono le fasi cosiddette choppy market, choppy market segnalato dalla DX sempre più basso, usciremo da qui, un amico mi chiedeva qual è la mia veduta sul DAX, allora in queste fasi è molto difficile avere una veduta proprio perché queste fasi laterali potrebbero essere di accumulazione o di distribuzione, si vedrà dai comportamenti successivi, quando si è all'interno, queste sono rotazioni in cui è una molla che si carica e che si prepara a esplodere da qualche parte e quindi dobbiamo attendere, non possiamo però trascurare il fatto, andando sulla scala daily, che non sono stati violati ancora, fatemi cancellare questa spezzata che sulla scala daily crea un po' di confusione, questa è la scala giornaliera, rifacciamo il punto di situazione, abbiamo avuto, di fatto siamo in questa fase laterale baricentrata su 15,3 dal 6 di aprile, quindi siamo qui da tre mesi, 300 più, 300 meno, abbiamo fatto una fase con i 300 meno, ora stiamo facendo quella con i 300 più rispetto a 15,3, 15,4, ma non ci schiodiamo da lì, abbiamo avuto 8 segnali candlestick di potenziale allarme, candele di inversione, che sono degli allarmi, non sono, cioè ci dicono qui c'è, ci potrebbe essere un potenziale problema, ma come detto tante volte i segnali tecnici devono essere poi convalidati dal cedimento di supporti o di livelli importanti dove i compratori si sono manifestati e poi a un certo punto spariscono, questa è l'essenza del supporto, non è voodoo, non è una linea tracciata nel vuoto, sono livelli di prezzo dove c'erano i compratori e ogni volta che i prezzi ci tornano la domanda è ci sono ancora e lo stesso vale per le resistenze, quindi occorre avere pazienza, quindi i segnali di allarme ci sono stati nel senso che a un certo punto i compratori spariscono e i venditori diventano aggressivi, ma diventano aggressivi per poco tempo, perché vedete anche qui espansione al ribasso, ma non c'è follow through, espansione al ribasso, ma non c'è follow through, follow through sarebbe il seguito, non c'è seguito, se non c'è seguito siamo nel ping pong, significa che sono liquidazioni di posizioni di breve termine, mani cosiddette deboli, ma le mani forti non stanno ancora liquidando massicciamente, se stanno facendo distribuzione lo stanno facendo in maniera silenziosa e significa se lo stanno facendo in maniera silenziosa che non hanno intenzione di violare certi supporti che per il momento ovviamente va bene così, se io devo distribuire voglio prezzi alti, non voglio prezzi bassi, quindi non ho interesse a rompere i supporti, a meno che non cambi un certo clima, non cambi il sentiment e quindi i compratori appunto si spostano, molto più in basso in quel caso, ma non ci può essere cambio di sentiment per il momento quando vediamo una situazione come quella del Nasdaq, dove ogni minimo ribasso viene comprato. Nasdaq non fa neanche in tempo a correggere in questo momento, da quando poi c'è stato il ribasso dei rendimenti, che favorisce i titoli tecnologici, sono ritornati gli acquisti sui titoli cosiddetti FANG che hanno toccato tutti i nuovi massimi abbondanti, ieri non abbiamo avuto il modo di vederlo, ieri Amazon più 4, cioè quando un titolo che capitalizza 2 trilioni fa più 4%, ti sposta l'indice da solo, perché questi sono ormai dei mammut, cioè questi qui, l'indice DAX, questi 5 titoli, lo influenzano per oltre il 40%, quindi quando questi sono verdi, il Nasdaq è verde, c'è poco da fare, quindi abbiamo altri indicatori che ci dicono che il cosiddetto BREATH è in calo, cioè stanno diminuendo i titoli che partecipano al rialzo, però stanno diminuendo ma non ci sono inversioni importanti, quindi per rispondere all'amico che mi chiede cosa penso del DAX, attualmente si vedono segnali di allarme che vogliono dire prudenza, prudenza nella gestione del rischio, prudenza nella gestione se ci sono posizioni a leva, eccetera, non farsi cogliere impreparati, perché se dovesse esserci poi una correzione sarà molto rapida, questo è quello che è quasi certo, perché il passato ce lo insegna, quindi questa è la situazione dell'America, più 0,2 il Nasdaq ha già chiuso, sì, candeletta nera, una possibile star, ma niente, questi non sono segnali tecnici importanti, il Nasdaq non ha mai dato, qui non c'è neanche un bearish engulfing fatto per sbaglio nell'ultimo mese e mezzo, anzi quasi due mesi, da metà maggio, è così. Il Russell, se vogliamo avere una situazione un po' più aderente a quella che è l'economia tra virgolette vera, quella fatta dalle piccole e medie imprese, se il Russell è un indice di 2.000 aziende, di piccola e media capitalizzazione, il Russell sta soffrendo e segue l'indicazione che viene dal calo dei rendimenti, quindi è un'economia che potrebbe anche rallentare nei prossimi mesi, questo stanno dicendo questi mercati, il Russell oggi meno 0,9, guardate la situazione molto diversa rispetto a quello del Nasdaq, i titoli tecnologici, roba che capitalizza 40, 50, 90 volte gli utili, quindi sono quotazioni astronomiche, è sopravvalutato, lo diciamo da tempo, ma la bolla è lì, cioè non si sgonfia per il momento, perché trattassi a zero è il fatto che comunque in questo momento tutto il mondo compra Google, Amazon, Facebook, ma questo già da tanto tempo perché li vede come porti sicuri, anche in caso di ribassi io compro Amazon e sono a posto perché è il leader in discusso mondiale, eccetera eccetera, adesso non vorrei divagare, parliamo di analisi tecnica, l'analisi tecnica del Russell ci dice che contrariamente al Nasdaq, qui invece siamo sul supporto della volatility stop line e tra parentesi veniamo da una fase laterale che come vedete, guardate dove sono ora, dura dal 4 febbraio, quindi praticamente sono 5 mesi abbondanti che siamo su questi livelli, questo ci dice il Russell e ci dice che nel complesso appunto dobbiamo osservare un attimo più di prudenza. Va bene, direi è tutto per oggi, siamo già a 12 minuti di video, mi sono un po' dilungato, ringrazio come sempre tutti per il seguito che hanno i canali sia su YouTube che su TradingView e grazie per i vostri like, molto apprezzati, vi do appuntamento a domani, per il momento grazie per l'attenzione e buona serata a tutti.